Il sindaco Scoditti e l'assessore regionale all'urbanistica Angela Barbanente hanno inaugurato Piazza dei Commestibili alla presenza del vicepresidente della provincia di Brindisi e numerosi assessori e consiglieri comunali. L'assessore Barbanente ha sottolineato come Mesagne è una città preziosa per la regione Puglia perché dà esempio per le altre realtà territoriali. Piazza Commestibili chiusa per lavori di ristrutturazione, oggi finalmente ritorna ad essere fruibili dai cittadini mesagnesi. Il futuro bagnato speriamo come si può dire che sia un futuro fortunato anche. La restituzione alla città di un pezzo importante della vita dei mesagnesi. Chi è più avanti con gli anni ricorda che questo è stato il centro pulsante. La mattina si veniva qui a comprare la frutta, la verdura, altri generi alimentari, ma era il luogo della chiacchiera, il luogo dello scambio di opinioni. La mattina si andava al mercato non solo per l'acquisto dei generi di prima necessità, ma anche per incontrare l'amico, magari per fare anche qualche particoletto, per dire la propria sugli argomenti dell'ordine del giorno della città. Adesso la vita è cambiata, è diversa, ma noi vogliamo far sì di recuperare certi valori fondanti. Significa avere la capacità di reaggregare non solo la memoria collettiva, ma anche le nuove generazioni, ridare un senso alla vita comunitaria, avere una nuova agora, che non possono essere purtroppo solo i grandi centri commerciali. bisogna far sì che la corale ridiventi il luogo dell'incontro, dell'elaborazione, dello scambio di esperienze, di una nuova vivacità di carattere commerciale, ma anche di carattere civile, culturale e umana.